Amiche e amici della GAPS, si va a Löwen, andiamo a recuperare il buon Enea, il buon Marco che ci porteranno in quel di Lovanio. Non abbiamo ancora capito se ci stiamo veramente tutti in macchina, forse qualcuno di noi andrà in treno, io in caso. Adesso stiamo andando a casa di Ene, gestiamo un po' di logistica della situazione e tra qualche ora si recupera Marco e si parte. Direzione a Löwen, festa universitaria, aperitivo italiano, noi che suoniamo karaoke dopo, mangiare e bere. Senza di noi karaoke. Allora ragazzi, stiamo caricando, siamo pronti no? Siamo pronti, così sembrerebbe. Sei pronto? Non so, vuoi portarti qualcos'altro? No, la roba è già abbastanza. Qua c'è tutta l'attrezzatura che ci portiamo, tranne quella di Marco e principalmente è roba di Ene, giustamente. Che palle fare il batterista. La prossima vita al violino. Cazzo stagliarvi oggi. Allora, raccattiamo Marco. Devo fare così, per essere bene. Un saluto agli amici che ti siamo venuti a prendere. Ragazzi, oggi se suona Dio Bono. Non è che siamo così fuori perché se suona, in Enea suoniamo 14 volte a settimana. Diciamo che siamo così fuori perché la capsina questa settimana sta bella in tiro. E la capsina vince. Stiamo partendo? Che dovevo prendere? Si ride di voi, ragazzi. Abbiamo caricato. Questa è una zingarata, ragazzi. L'economia è il nostro mestiere ed è così qua. Quanti bei ricordi. Mi mancavano questi momenti. Questa è la situazione della macchina. Stiamo scoppiando. Noi siamo ancora qua. E già. E già. Buona Enea, se la guida, tranquillissima. E attorno a noi, la festa, il merito. Che bello. Che bello. Grazie a tutti. Questo è lo spiazzo in cui avremmo dovuto suonare. La facoltà aveva prenotato tutto, questo giardino, abbiamo preso parte del parcheggio, ma purtroppo sta per arrivare una tempesta di quelle che il Belgio conosce bene, quindi siamo costretti a suonare all'interno dell'atrio della facoltà. Quindi suoneremo qui, l'acustica non è delle migliori, però ci faremo il meglio che possiamo. Ok, stiamo rompendo il setup dei marchi. Stiamo preparando, tra poco facciamo il soundcheck. Questo ormai è il mio... Il marchio di fabbrica? Sì, l'ho fatto a Ludwigsburg, siamo pazziati, un sacco di pollastrelle, tante cose. Siamo qui nell'androne della facoltà di lettere di Leuven. Il boss. E insomma abbiamo montato tutto e adesso facciamo il soundcheck. Siamo belli carichi. C'è un sacco di eco, ma... Non c'è problema perché farò la fonia più perfetta che la storia del foni, ci ricordi, no? E Ale ci crede. Questo è il top. Staremo a vedere. Allora ragazzi, siamo pronti a iniziare. Spritz e cominciamo. Gli spritz vanno alla grande. Tra poco si inizia. Qua è la gente dietro di noi. Sta mangiando al buffet come noi abbiamo già mangiato. Siamo pronti, Frankie? Siamo pronti. Ma che bello che ogni concerto che facciamo c'è i Pilutti. La nota più bella è... Siamo pronti, eh? Qua c'è questo setappino acustico. Acustico ma bello. Esatto. Adesso vi facciamo sentire un po' come suona questo concerto. Siamo pronti. Grazie a tutti. Allora, com'è andato sto concerto? Eh, si è sudato come si vede dai miei capelli Però ci siamo divertiti senza sapere quello che abbiamo sonato Perché non si sentiva niente Però io mi sono divertito lo stesso Sì, sarà molto bello Sprizzettini Sprizzetti come se non ci fossero domani Ma arrivano le lasagne e sbam Lasagnola e fine Sì, come hai detto, l'acustica è pessima E siamo in un corridoio Cioè neanche in un atrio Sì, in un atrio di un'università Abbiamo fatto il meglio che potevamo Comunque la gente ovviamente si è divertita Stanno ancora qua Dietro di noi Aspettando le lasagne Girando aspettando È finito così il karaoke Una cloriosa fine Una gloriosa fine per un glorioso concerto Una gloriosa fine per un glorioso concerto Eccoci, siamo finito. Mazza, sembriamo, come si chiama il film dei Drogadoni? Spera in spotty. Mazza. Sì, un parano. Siamo a Bristol. Come è andato sto concerto? Ma è andato piuttosto bene. Io e Frecchio dobbiamo notare una cosa. Abbiamo scoperto da questo talento tenore. Ene? Ene è fuorissimo. È stato soddisfacente ciò che hai trovato. Ho trovato molto divertimento, un karaoke molto all'italiano. Abbiamo fatto il trenino, raga. E erano anni che non facevamo il trenino. Abbiamo fatto il trenino. E abbiamo messo ufficialmente il repertorio da provare. Maracaibo. E io sono anni che la voglio fare. Marco pure. Maracaibo, facciamo gli stati. Dio buono con Maracaibo. Mari, Forza Nova. Un giro e si vadova. Forza Nova. È giusto, ti sei allineato al nuovo governo. Esatto. Forza Nova. È andata bella, dai. È andata bella. È andata bella. Siamo finiti. Tutta bella. Non sono finite. Va bene, ragazzi. Allora, mi allontano per dirvi questa cosa. Se volete restare in contatto con noi, iscrivetevi cliccando qua sotto e cliccate anche la campanella, così vi arrivano le notifiche quando postiamo un nuovo video. Se avete domande, curiosità o volete sapere qualcosa in più, scriveteci nei commenti qui sotto. Qualsiasi cosa, noi rispondiamo sempre. Vi aspettiamo al prossimo viaggio. Vi aspettiamo al prossimo viaggio. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, in me sa quanto vuoi, grazie di esistere. Più bella cosa di te, unica come sei, in me sa quanto vuoi, grazie di esistere.